Un incubo nel quale è piombata una ragazza di appena 18 anni, la giovane, mercoledì, si era allontanata dalla casa famiglia nel Padovano in cui è ospitata e ha raggiunto Treviso. Nei pressi della stazione ferroviaria ha incontrato un 27 anni nigeriano residente a Carbonera, regolare, in Italia. I due, secondo la ricostruzione dei carabinieri, si sarebbero appartati in un giardinetto della città per fumare una sostanza stupefacente, ashish o marijuana. Poco dopo la ragazza sarebbe svenuta. Quando ha ripreso i sensi, il giovane non c'era più e lei ha capito che era successo qualcosa, che c'era stato un rapporto sessuale. A quel punto sotto shock ha chiesto aiuto ad una barista che ha chiamato il 112. La 18enne è stata accompagnata a Caffoncello, dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso, che hanno riscontrato delle abrasioni compatibili con una violenza sessuale. Nel frattempo i militari dell'arma hanno rintracciato il presunto responsabile, che ha fornito una versione in parte diversa dei fatti, rispetto a quella della ragazza, affermando che il rapporto sessuale ce l'ha stato, ma era consenziente. Per i 27 anni è scattato il fermo ed è ora in carcere in attesa della convalida. La ragazza, invece, subito dimessa dall'ospedale, è tornata nella casa famiglia. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per chiarire completamente i contorni della vicenda.